All'indomani del vibrante Gran Premio di Francia, Jorge Lorenzo non ha potuto fare a meno di esprimere la sua ammirazione per Marc Marquez, che ha lasciato il pubblico a bocca aperta con un sorpasso straordinario su Pecco Bagnaia. Lorenzo ha celebrato il gesto atletico di Marquez come frutto di un talento innato, quasi soprannaturale, che nasce dall'istinto e da una predisposizione naturale. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Da Zen, Lorenzo ha interrogato Marquez sul dettaglio di quel movimento. Quel sorpasso alla chicane è stato spettacolare, Marc. Marquez, con un sorrisso, ha condiviso la sua esperienza su quella curva, notoriamente difficile. Ho imparato molto dalle cadute passate in quel punto. Ho aspettato il momento giusto, sapendo che Pecco potrebbe non attaccare. Ho colto l'attimo, sentendomi sicuro su quel tratto, e, con l'esperienza che mi contraddistingue, ho sfruttato l'occasione appena si è presentata. Lorenzo ha poi rimarcato l'unicità di Marquez, evidenziando come, nonostante le spiegazioni, replicare tali gesta rimanga un'impresa ardua per qualsiasi altro pilota. L'incontro si è concluso con un reciproco scambio di complimenti, dove Marquez ha ringraziato Lorenzo per i preziosi consigli, in particolare sull'uso strategico del freno posteriore. L'ex campione ha anche riflettuto sulla recente rinascita di Marquez, nonostante non sempre tradotta in vittorie, descrivendola come una rinascita che testimonia la sua grandezza, soprattutto dopo le difficoltà degli ultimi anni. Mark sta ritrovando se stesso, grazie all'esperienza maturata in MotoGP. È autentico, e questo lo rende felice e visibile a tutti. Non si nasconde, e con il suo stile unico, cerca sempre di regalare spettacolo, dentro e fuori dalla pista. Inoltre, Lorenzo ha toccato il tema dell'evoluzione tecnica della MotoGP, con particolare attenzione al cambio regolamentare per il 2027, che vedrà l'introduzione dei motori da 850 cm³. Un tentativo di ridurre la velocità massima per aumentare la sicurezza sulle piste, rappresentando una svolta significativa nel mondo del motociclismo dall'ultima modifica NEL.